carissimi amici sono qui con padre ottavio che è tornato da capoverde con il secondo viaggio accompagnato dal governatore del piemonte il presidente della regione alberto cirio come è andata con presidente è andata molto bene diciamo quello che mi ha l'ho sentito come un valo da parte del presidente della regione alberto cirio siamo amici ma l'ho sentito perché è stata una faticaccia per tutti pochi giorni intensi problemi anche di trasporto non indifferenti per cui diciamo il gruppo si è unito a decine di persone con degli imprenditori eccetera e questo diciamo mi ha rallegrato il cuore non solo gli amici benefattori ma un rappresentante di tutta la regione piemonte con i suoi collaboratori che viene in visita a capoverde è una visita come dire per farti un regalo cioè quasi dire no io sono con voi missionari piemontesi sono con voi e questo mi ha rallegrato molto il cuore sembra una cosa laima non è laica ebbene no quando c'è un gruppo di uomini che si buttano a fare il bene e le autorità responsabili condividono e vengono a trovarti sul lavoro penso questo sia un regalo molto come al di là dell'umanità della della succede al di là della sua così del suo ruolo di governatore com'è umanamente il presidente cirio è un amico una persona intelligente perché capisce le cose va all'essenziale e ha un'immediatezza di di cogliere no la situazione e di aprirla verso qualcosa di positivo cioè non è un tecnico è un uomo di relazione che crede al bene e che vuol fare il bene della società dove vive questo è un po stato l'impressione di pochi giorni a fianco a lui ricordo quando ci siamo trovati siamo andati a visitare la zona di santa cruz dove abbiamo la casa ma birger delle ragazze madri dove c'è la casa l'amicizia dove stiamo costruendo casa famiglia e padre gis è molto interessato a sviluppare questo progetto che riguarda la donna con tutta la realtà di servizio non solo sanitario sociale figli eccetera e lui mi ha detto ottavio possiamo partecipare noi un po come regione però devi mettere la regione piemonte io scriveremo noi regione piemonte col contributo dalla regione piemonte ben volentieri ma le cose hanno un valore come si dicono come vengono donate che c'è vari modi di donare la cosa penso che cirio alberto a me nei confronti in confronti dell'ambiente dove ci trovavamo una una sua delicatezza e chiarezza culturale allora ci auguriamo tutti che questa sia un'amicizia che porti dei bellissimi frutti e faccia crescere anche umanamente la relazione con questa persona che anche noi abbiamo accompagnato nel viaggio precedente e ci siamo trovati benissimo grazie padre ottavio prego andiamo avanti con fiducia sempre avanti c'è